L'evento tratterà delle cure successive al ricovero. Il neonato pretermine è un neonato fragile, ma alla fine del suo percorso ospedaliero ha altrettante fragilità. Queste fragilità devono essere prese e seguite da un team multidisciplinare per fare in modo che questo neonato al termine del suo percorso possa essere come tutti gli altri bambini. Per il paziente quanto sono chiare e accessibili queste cure multidisciplinari a beneficio del neonato pretermine? Questo è un lavoro su cui dobbiamo lavorare. L'ASPA sta facendo tantissimo. Dobbiamo sempre di più cercare di riempire questi contenuti e fare in modo che la sanità anche in questo caso si sposti verso il territorio e non sia troppo ospedalocentrica. E quanto sono importanti questi momenti di confronto tra professionisti di diversi settori? Sono fondamentali perché ognuno di loro si lavora come professionista individuale ma si deve interfacciare sempre e costantemente con il team per fare in modo che questi lavori siano sempre più fruttuosi per il nostro piccolino.